Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come va? Siete carichi? Com'è Campus Party? Figo? Ok. Allora, oggi noi vorremmo raccontarvi una storia, ma non una storia inventata, non una storia da libro o da film, anche se un po' per certi passi ci assomiglia, ma la nostra storia. Vi assicuro che è tutto vero quello che sentirete, ed è la storia proprio della nostra vita, di quello che ci è successo e di quello che ci ha portati a solo 18-26 anni a fondare la nostra azienda Of Passion. Inizierà Vale con la sua storia straordinaria e poi mi accoderò io con la mia storia assolutamente invece ordinaria. Buon divertimento. Io sono Valeria e ho 18 anni e sono appassionata di robotica fin da quando ero piccola. Ho scoperto la robotica in un Coder Dojo. Voi sapete cos'è giusto il Coder Dojo? Nessuno, non ci crede. Nessuno. Dai, questo è forte. Per alzata di mano, qualcuno che sa cosa sia il Coder Dojo? o qualcuno che vuole spiegarlo al resto del mondo qui presente? Dai, qualcuno? Abbiamo un microfono che viaggia qua, secondo me. Eccolo qui. Chi è che si prende il coraggio? Dai, non fatemi parlare da solo che sono noioso io poi. Dai ragazzi. Forza ragazzi. Qualcuno? Vai lì nell'angolo, volevo. Dai. Allora, Coder Dojo è una scuola che insegna i ragazzi a programmare anche tramite l'utilizzo di open hardware come Arduino e Raspberry. Esatto. Inizia proprio da molto piccoli, da bambini in realtà. È una community in giro per tutto il mondo e io volevo all'inizio delle medie, volevo sperimentare un po' il mondo dell'informatica perché mi piaceva giocare col computer e così cercando online ho scoperto questo Coder Dojo e sono stata nel Coder Dojo di Milano e lì mi si è aperto un po' un mondo perché io vengo da Alessandria e in Alessandria non c'era assolutamente nessun ragazzo che usava il computer o era contento di imparare a capire come funzionasse davvero un computer e lì invece ho trovato tantissimi bambini e ragazzini come me che volevano sperimentare qualcosa con il coding e soprattutto ho scoperto la robotica tramite una pianta digitale. Una semplice pianta disegnata sullo schermo di un computer che era però grazie ad Arduino capace a interagire con l'ambiente circostante, quindi era capace ad essere più felice o più triste in base a essere da sola o se c'era qualcuno insieme a lei nella stanza. A me questa cosa è piaciuta subito un sacco perché mi ha stupito il fatto che una semplice scheda elettronica riuscisse a capire con dei sensori cosa le succedesse intorno e così appena sono tornata a casa anch'io volevo costruire qualche robot con Arduino e seguendo dei video su YouTube dopo aver sperimentato l'utilizzo di qualche sensore, motore, led, sono riuscita a 11 anni da sola a costruire quel piccolo robotino lì che è un robotino che era capace ad andare in giro da solo per una stanza evitando gli ostacoli, però poi ho scoperto una cosa che per me era un po' strana perché io pensavo che a 11 anni ci fossero moltissimi bambini e ragazzi che costruivano robot e invece ho scoperto che per il mondo dei grandi e degli adulti non era così tanto comune a 11 anni costruire un robot e ho cominciato a parlare a vari eventi, conferenze che mi hanno poi portato a 14 anni a parlare in un TEDx ma io non volevo fermarmi lì perché sì era bello costruire robot con Arduino, parlare in qualche conferenza ma dopo un po' era un po' limitativo e volevo fare qualcosa di più complesso e cercando sempre su YouTube ho scoperto dei video che mi sono piaciuto un sacco che erano quelli della Boston Dynamics di robot che fanno capriole, saltano, corrono. Li avete visti? Sì ok. Questi tutti li avete visti? Sì dai ok. Bene. A me questi robot affascinavano ma non mi bastava come un po' a tutti, vederli solo in video e così io sapevo che erano uno spin off dell'MIT di Boston e ho così cominciato a mandare mail a tutti i dipartimenti dell'MIT perché io volevo in qualche modo riuscire ad arrivare all'MIT anche se sapevo che era un'università, era per 18 anni, almeno 18 anni e io avevo soltanto 15 anni però l'idea di andare lì, capire qualcosa in più, conoscere i creatori di questi robot mi affascinavo un sacco, così per un po' li ho un po' stalkerati, ho cominciato a mandare mail, mille mail perché ovviamente alla prima mail non mi hanno risposto e poi alla fine un dipartimento, quello Ducky Town mi ha all'inizio messo alla prova, quindi mi ha inviato un robot da costruire per vedere se ero davvero interessata a costruire questo robot, ma questo robot era complessissimo, io avevo 15 anni, avevo appena iniziato le superiori non sapevo praticamente programmare o pochissimo e questo robot richiedeva base universitaria io passavo interi pomeriggi davanti a questo tutorial e in un pomeriggio o anche più pomeriggio andavo avanti di tre righe di tutorial, però quello che loro hanno visto è che io continuavo a fare domande 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 per riuscire ad andare avanti anche solo di un pezzettino di tutorial e così poi mi hanno invitato con borsa di studio a passare l'interestate a Boston e nel progetto Ducky Town ero senior tester, dovevo praticamente semplificare i tutorial universitari e renderli fattibili dai ragazzi delle superiori e per costruire un piccolo robot un robot che vi faccio vedere così mi dite voi se capite cosa fa guardate bene il video cosa facevano i robot? guidano, seguivano le linee quindi guida autonoma e leggendo cartelli ok ma poi c'era una cosa strana si fermavano rallentavano sì, quello era per gli stop, quindi erano degli incroci o dei semafori è una cosa strana che normalmente in una città vera non c'è questa dovrebbe essere una ricostruzione che simula una città vera però c'era una cosa strana almeno in giro per le strade di Milano ma neanche di Alessandra ci sono forse qualcosina in più sì avete visto qualche, un elemento, c'è proprio un elemento non i semafori, il semaforo non è male ma non è il semaforo la risposta giusta c'è proprio un elemento che spicca le papere oh le papere qualcuno diceva non ci sono i pedoni sì la risposta è la stessa ed è corretta le papere le papere sono i pedoni sì 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 le papere sono i pedoni ma perché all'MIT che sono così sono comunque l'università più importante al mondo per quanto riguarda tutte queste cose si divertono con delle paperelle chi ha idee? non sento, dove è il microfono? ok se qualcuno, tutte le idee sono buone? anche perché la risposta è veramente folle perché spiegano il codice alle paperelle? no le paperelle sono quelle da bagno dei bambini sono le dacchi, le dacchi proprio loro le chiamano dacchi sono le paperelle da bagno che usano i bimbi vai pure dicevo che sarà la mascotte dato che si chiama Ducky Town ok no in realtà sì sì ma hanno usato quell'elemento per un motivo molto più alto dell'immagine della paperella diciamo perché non hanno usato una qualsiasi cosa che poteva essere una cosa un cubetto che rappresentava solo me per trasmettere l'idea che comunque fosse un gioco bingo abbiamo azzeccato è proprio quello il discorso sì perché la cosa che io ho scoperto che per me all'inizio era un'assurdità è che lì si imparano cose difficilissime per esempio tutta questa città si basava anche su principi di machine learning computer vision ma lo fanno divertendosi, giocando e per me io questa cosa all'inizio non la capivo perché io ero abituata a una scuola noiosissima quanti di voi si sono divertiti alle superiori? qualcuno c'è? vabbè beati voi non so cosa dire d'altro dire e lì invece e così poi dopo un po' io all'inizio pensavo fosse soltanto una cosa del del dipartimento da Keytown vabbè in questo dipartimento sono un po' pazzi nel resto dell'MIT saranno normali e faranno le lezioni come in un classico politecnico italiano e invece ho cominciato a girare tra i vari dipartimenti e ho scoperto che non era così anche in tutti gli altri dipartimenti si divertivano, giocavano imparavano cose difficili sempre con il sorriso e questa cosa mi ha stupito un sacco e lì ho scoperto che si potevano imparare cose anche serie materie scolastiche universitarie in maniera divertente e giocosa e anche io volevo fare questa cosa volevo cominciare a insegnare in maniera divertente e appena sono tornata in Italia ho cominciato a fare qualche lezione di robotica con qualche bimbo e poi man mano la cosa è cresciuta sempre di più in maniera esponenziale così a 16 anni ho fondato la mia scuola di robotica e poi questa scuola negli ultimi anni è diventata sempre più grande oggi abbiamo un team di una decina di insegnanti e soprattutto è diventata una vera e propria azienda insieme al mio socio Francesco buongiorno a tutti io mi sono già presentato più o meno sono Francesco ho 26 anni e non 18 e vi do subito un consiglio se volete andare a mangiare potete andare perché la mia storia è assolutamente noiosa e normale se volete fare un sonnellino siete stanchi potete farlo a parte le battute è davvero normale la mia storia e vorrei raccontarla proprio per questo motivo vorrei partire dall'elemento della normalità perché io non ho niente di straordinario da raccontare signori miei perché io a 11 anni di robot non ne costruivo manco mezzo anzi giocavo con gli amici a calcio giocavo alla Playstation collezionavo le carte di Pokemon facevo le cose che fanno i bambini di 11 anni a 14 non ho parlato in un TEDx a 15 non sono per niente finito alle metti di Boston anzi il mio primo approccio con il mondo dell'informatica è arrivato all'età che ha Valeria adesso 18 anni mi iscrivo all'università statale di Milano e scelgo il corso di informatica scelgo il corso di informatica e per la prima volta nella mia vita scolastica prendo una mazzata sulla testa prendo una mazzata sulla testa per un semplice motivo io ero sempre stato uno studente magari qualcuno di voi se l'ha sentito dire dalle mamme a cui le maestre parlavano le professoresse parlavano e dicevano ai colloqui sa suo figlio è bravo però sì minimo sforzo massima resa è quella roba lì no? cioè non va più del ok ho il 6 ho il 7 va bene così io lo facevo lo facevo sempre lo facevo sostanzialmente per due motivi il primo è che non mi interessava veramente qualcosa nella scuola non c'era davvero una materia che mi portasse a dire ok questa è la cosa che farò da grande il secondo molto più assurdo oserei dire è che la scuola italiana semplicemente me l'ha permesso perché la scuola italiana a me ha sempre insegnato che andava bene così io ho scelto il liceo scientifico alle superiori quanti di voi hanno fatto il liceo scientifico? ok parlo a una buona fetta di pubblico allora dovete sapere che io ho scelto il liceo scientifico perché in cuor mio volevo diventare un piccolo scienziato ok e cosa scegliere se non un liceo scientifico? io credevo con un liceo scientifico di avere delle basi veramente scientifiche beh io non scherzo quando dico tutte le volte che in cinque anni di liceo scientifico io sono andato in un laboratorio che fosse fisica, chimica o qualsiasi altra cosa non più di forse cinque volte in cinque anni cioè non c'è la parte di laboratorio non esisteva e non sento a credere che forse non esista ancora adesso non sto parlando però del paleolitico cioè io ho 26 anni mi sono diplomato nel 2011 cioè stiamo parlando di otto anni fa ok otto anni fa noi eravamo nel medioevo e lo siamo ancora adesso e quindi la scuola italiana mi ha insegnato che ok la scienza che cos'è? la scienza è studiare sui libri ripetere la lezione arrivederci e grazie tutto questo fino all'università perché io arrivo all'università convinto in cuor mio di essere un piccolo scienziato perché me ne ero sempre cavata a scuola come vi raccontavo era sempre andato tutto bene non c'era nessun segnale che mi avrebbe fatto capire che avrei fallito e invece arriva l'ammazzata sui denti io mi scrivo a informatica una delle materie più scientifiche che ci possano essere dopo sei mesi folli io non riesco a tenere il passo delle lezioni non capisco come mai ma non era un problema di sforzo perché mi piaceva informatica l'avevo scelta, volevo farla volevo farne un lavoro di quella cosa lì eppure nonostante lo sforzo nonostante la passione nonostante la voglia mancava qualcosa non riuscivo a capire che cosa dopo sei mesi veramente di follia totale non ne potevo più psicologicamente ero a terra mi ritiro dall'università mi ritiro dall'università ma non mi fermo mentalmente perché io sono un grandissimo appassionato di filosofia essere appassionato di filosofia vuol dire farsi un sacco di domande su quello che c'è fuori sul perché del mondo ma su anche quello che succede dentro di noi e allora mi sono guardato allo specchio uno specchio metaforico e mi sono detto ok analizziamoci cosa è successo perché questa volta non è andata mi sono dato un sacco di risposte la verità era semplicemente una non ero pronto ma non dal punto di vista tecnico non perché non avessi mai prima approcciato l'informatica o diciamo la programmazione in generale ma perché non avevo un metodo non avevo da una parte un approccio mentale e dall'altra un metodo scientifico perché quello che mi mancava era veramente un metodo di studio scientifico ok quindi se io vi per esempio vi faccio una domanda che cosa fa uno scienziato voi mi risponderete la prima parola che mi viene in mente non sento esperimenti mi serviva quella ok esperimenti perfetto io non sapevo sperimentare zero io mi ricordo ho l'immagine di me stesso è veramente iconica questa cosa davanti a un computer davanti ai miei primi programmi che mi davano all'università bloccato perché non riuscivo a programmare ma non ci provavo nemmeno io avevo la paura di provare di sbagliare di fare quel programma ma non capivo che non sapevo che per fare quel programma avrei dovuto sbatterci la testa un miliardo di volte io però tutto questo non lo sapevo non me l'aveva insegnato nessuno e allora che cosa succede? andava tutto bene poi va tutto male e penso e dico ok però non può finire così questa storia deve essere diversa dentro di me avevo un fuoco avevo un fuoco che volevo far esplodere e sapevo che la strada in qualche modo sarebbe dovuta essere l'informatica decido di riscrivermi ad informatica mi autoimpongo un metodo scientifico e vi assicuro che è stato dolorosissimo perché farlo a 20 anni non è come farlo a 10 11 12 13 è stata una fatica enorme ma io dopo tre anni mi sono iscritto all'università e dopo tre anni mi sono laureato in informatica wow ce l'avevo fatta ero pronto ad esplodere nel mondo il mio ego era sulla luna ero carichissimo volevo svoltare ok sapevo che ce l'avrei fatta poi immediatamente vengo assunto dopo la laurea da un'azienda di consulenza software sembrava tutto perfetto lavoro a tempo indeterminato poca fatica seduto sulla mia sede d'ufficio ogni tanto qualche trasferta ben pagata meraviglioso primo lavoro della mia vita momento di crisi Italia si parlava di tante cose io ero a posto io almeno sarei stato a posto non mi sentivo peggio di così mi sentivo in una gabbia mi sentivo stritolato perché in quell'ufficio non riuscivo ad andare avanti ero arrivato lì ma sapevo che quell'ufficio per me era semplicemente come correre sul tapirulano io volevo fare la maratona e volevo vincerla allora inizia un altro periodo difficile della mia vita in cui non so cosa fare non so cosa fare perché non so come uscirne io vengo da un'estrazione sociale molto umile la mia famiglia in quel momento era in difficoltà economica come fare a lasciare un lavoro per cercare qualcos'altro dove sarei potuto andare cosa avrei potuto fare un altro lavoro come quello no non mi piaceva avevo in mente altro ma non sapevo ancora cosa la fortuna ogni tanto ci assiste e la fortuna ha assistito me un giorno quando su facebook banalmente scorrendo la home leggo un articolo un articolo di Millionaire conoscete tutti il giornale Millionaire è un articolo di quelli facili in cui è facile cliccare e dire ok lo apro perché è troppo è troppo assurdo per essere vero il titolo è banalmente questo ragazzina di 15 anni di San Michele vola all'MIT di Boston voi dovete sapere che San Michele è una frazione di Alessandria dove abita Valeria dove non c'è nulla c'è il casello dell'autostrada e il carcere e poi c'era Valeria Cagnina io dico no non è vero questa ragazza è finta non può esistere cioè non può essere andata a 15 anni all'MIT di Boston devo conoscerla banale richiesta di amicizia lei me l'accetta non le scrivo subito finisce lì quel momento perché ancora una volta io non credo molto a queste cose però in cuor mio sapevo che ci sarebbe stato un altro momento una possibilità un'occasione che io avrei potuto sfruttare l'occasione arriva perché quella ragazzina non solo va a Boston ma ci torna e ci torna con un'idea bella ferma nella testa quella di fare una scuola fa una scuola ed è talmente pazzesca questa scuola che le richieste aumentano a dismisura giorno dopo giorno e lei fa una call banale su Facebook dove scrive signore e signori ho bisogno di aiuto c'è qualcuno che può aiutarmi io mi ricordo il giorno in cui leggo quello stato lo leggo e dico eccola qui la chiave per uscire dalla gabbia in cui mi sono infilato è questo io non sapevo cosa sarebbe potuto succedere perché davvero non sapevo cosa sarebbe potuto succedere era in un certo senso un salto nel vuoto io le mando una mail scritta con il cuore con tutto quello che veramente volevo dire era un po' come scrivere a me stesso era una mail molto speciale perché io avevo ricevuto un sacco di mail di gente che si era proposta ed erano tutti i classici curriculum europei tutti uguali in cui c'è scritto ecco il mio curriculum aspetto il colloquio e a me questa cosa non piaceva io invece cercavo qualcosa di interessato e qualcuno che come ha fatto Francesco mi spiegasse il perché era davvero interessato a fare quel lavoro io volevo farlo assolutamente volevo collaborare con lei allora lei mi invita guardate qua fa ridere questa cosa perché lei aveva 16 anni all'epoca adesso è una 18 non che sia non che sia grande però fa impressione il fatto che lei a 16 anni invita me nel suo ufficio a farmi il colloquio cioè lei mi fa il colloquio di lavoro a 16 anni io avevo già fatto qualche colloquio di lavoro e vi assicuro che ci sono rimasto malissimo primo perché non sapevo cosa sarebbe potuto succedere questa ragazza era vera era finta era tutta una costruzione chi lo sa dall'altra parte il salto nel vuoto cosa potrebbe succedere dopo non sapevo nulla io so solo che mi dirigo nel sufficio mi tolgo le scarpe perché questo è quello che succede nella nostra aula dopo ve lo spiegheremo magari brevemente e lei mi fa sedere per terra una cosa normalissima io non capisco nel senso che l'avevo letto del fatto che lei facesse queste lezioni in laboratorio in modo strano diverso però voglio dire il colloquio almeno fammelo far su una sedia voglio dire no per terra mi fa levare le scarpe mi fa sedere per terra e non mi dice niente cioè ero abituata a fare dei colloqui nel senso l'avevo già visto qualcuno domanda risposta c'è un dialogo niente io non sapevo come erano fatti i colloqui io ho provato a inventarmi secondo me un colloquio doveva essere una sfida quindi io dovevo vedere se tu eri davvero la persona giusta e quindi il modo migliore secondo me era metterti alla prova sì mettermi alla prova stando in silenzio però non dicendo niente semplicemente prendendo dei robot e buttandomeli davanti io guardo questi robot non colgo la sfida io colgo solo proprio cavalco la mia curiosità e dico che figata mi spieghi cosa siano questi robot si è aperto il vaso di Pandora le avevo fatto breccia perché perché le bastava quello bastava qualcuno curioso appassionato che volesse veramente fare parte della sua storia in qualche modo e da lì signori è successo qualcosa di incredibile perché da quel giorno sono passati 4-5 mesi non di più ed eravamo da semplici sconosciuti a soci fondatori della nostra azienda di robotica educativa che si chiama Of Passion e quindi io da quel giorno veramente posso dire di essere felice contento e finalmente riesco ad affermarmi nel mondo grazie alla nostra azienda appunto di cui adesso vorremmo raccontarvi velocemente in breve che cosa facciamo la nostra azienda è un po' per tutti e quello che facciamo lo facciamo in modo divertente e abbiamo dieci regole un po' particolari che non sono proprio regole di cui la prima che niente è impossibile quindi se si crede che niente sia impossibile e soprattutto non si dice mai non ce la faccio si può raggiungere qualsiasi obiettivo poi come diceva Francesco facciamo sempre attività per terra senza scarpe senza banchi senza sedie e facciamo tutte le attività in cerchio quindi per dare la possibilità a tutti di esprimersi allo stesso livello e non ci piacciono poi le classiche lezioni teoriche in cui un insegnante spiega gli altri ascoltano e poi dopo poco si addormentano ma ci piacciono sempre attività pratiche in cui tutti abbiano la possibilità di sporcarsi le mani e sperimentare qualcosa e crediamo che anche durante la costruzione di un robot a qualsiasi età si possano imparare anche principi complessi di robotica fisica meccanica programmazione il tutto giocando divertendosi e vedendo il risultato direttamente sul proprio robot e poi cerchiamo di usare l'inglese un po' per tutto non siamo madrelingua però cerchiamo di insegnare l'importanza dell'inglese a tutte le età e quanto sia importante oggi sapere l'inglese come l'italiano e poi una cosa che funziona soprattutto con i più piccoli è quello che lasciamo libero utilizzo di device e internet questa è la tua preferita questa è la mia preferita è l'ultima ma è la mia preferita perché sapete notizia forse dell'anno scorso di quel liceo di Piacenza se non sbaglio che bandì i telefoni facendoli mettere in quelle sacchettine magnetiche quindi i ragazzi arrivano a scuola dovevano consegnare il telefono al docente della prima ora e gli sarebbe riconsegnato gli sarebbe stato riconsegnato alla fine dell'ultima ora dentro questa sacchetta magnetica sbloccabile solo dai docenti ecco per me per noi per tutta la nostra azienda questa roba è una follia allora quando andiamo nel mondo del lavoro e qualcuno se ne sarà già reso conto non possiamo prescindere dalla tecnologia signori cioè non possiamo dire a questi ragazzi di non usare il cellulare per imparare quando faranno solo quello per il restante tempo della loro vita perché imparare sarà quella roba lì imparare sarà utilizzare tutta la tecnologia che abbiamo in maniera intelligente non vietarla non dire è il demonio questa roba non dire non bisogna utilizzarla cioè stiamo andando avanti o indietro bisogna trattarla come uno strumento non come il diavolo che ci porterà via l'attenzione anche perché noi quello che diciamo sempre se non siamo capaci noi che siamo dall'altra parte a generare attenzione beh non ci scandalizziamo che poi le persone i nostri dreamer come li chiamiamo noi i partecipanti ai nostri laboratori vadano su una chat di whatsapp significa che noi non siamo interessanti non c'è il canale di comunicazione giusto non gli stiamo arrivando il problema innanzitutto è il nostro non il loro poi quello che facciamo con questa metodologia lo facciamo un po' con tutti partiamo da bimbi molto piccoli di 2-3 anni arriviamo poi a ragazzi più grandi adolescenti ma anche adulti insegnanti abbiamo fatto corsi certificati miur e poi arriviamo anche a tutto il mondo aziendale in cui facciamo dei team building per simulare tutte le soft skill nelle persone e partiamo da attività molto molto brevi che durano anche solo mezz'ora in delle fiere e poi arriviamo anche attività più lunghe come per esempio quella che stiamo facendo adesso che è un summer camp residenziale di robotica e facciamo questo un po' ovunque in giro per tutto il mondo siamo stati in varie città sia in Italia che all'estero siamo arrivati anche in realtà come Boston San Francisco e sempre con il nostro modo un po' strano di fare attività queste sono alcune delle aziende che aziende e istituzioni che hanno collaborato collaborato con noi ma ce ne sono veramente questo catalogo è in aggiornamento ogni giorno perché davvero questo metodo funziona e sta raggiungendo veramente sempre tutti a tutti i livelli è trasversale perché è un metodo che funziona non solo per i piccoli non solo per i ragazzi funziona veramente per tutti in azienda soprattutto molte volte ci sono frizioni contrasti c'è un modo di vivere l'azienda ormai vecchio antico bisogna svecchiarlo bisogna andare avanti quello che il nostro obiettivo a lungo termine la nostra visione è quella di riuscire a rivoluzionare il mondo dell'education per permettere a tutti a qualsiasi età di imparare in modo completamente diverso ed essere contenti di imparare per tutta la vita e permettere alle persone fin da quando sono giovani di scoprire la propria passione trasformare questa passione in un lavoro per essere felici ogni giorno della propria vita e credere sempre che niente è impossibile e applicarlo a ogni cosa della loro vita per essere determinati e raggiungere qualsiasi obiettivo grazie se volete seguirci su tutti i social noi ci siamo come Valeria Cagnina Francesco Baldassarre e Off Passion che è il nome della nostra azienda di robotica se avete delle domande noi siamo qua se volete scrivere al cellulare non scrivete a lei perché non risponde scrivete a me perché rispondo sempre fine ciao ciao quindi io mi chiamo Alex ho 15 anni e la mia domanda è soprattutto per Valeria quindi per prima cosa trovo beh molto inspirational come sei riuscita a fare così tanto a un'età così giovane e anche io essendo a liceo lo trovo molto beh inspirational e la seconda parte io mi chiedevo se tu avendo creato una specie di azienda a 16 anni se non avessi incontrato dei problemi con la legge complicazioni sì allora io abbiamo cominciato all'inizio appoggiandoci all'azienda di mia mamma nel senso eravamo assunti all'interno dell'azienda di mia mamma che fa tutt'altro però ho aperto dei codici apposta per la nostra attività e poi appena ho compiuto 18 anni abbiamo formalmente creato la nostra azienda of fashion grazie mille altre domande? salve sono Amalia Mandiello da Electronic Information Technology e la mia domanda è vi siete entrambi avvicinati prima chi dopo alla tecnologia comunque da bambini da ragazzi da giovanissimi siete ancora adesso giovanissimi quindi sapete benissimo com'è il primo approccio di un bambino di un ragazzo al mondo della tecnologia e della robotica quindi io mi chiedo è possibile qual è il metodo per far sì che un bambino un ragazzo giovane sviluppi una propria coscienza critica verso il mondo della robotica perché la letteratura la fantascienza ci hanno un po' abituato ad un'idea della robotica particolare quasi apocalittica in cui i robot sostituiranno l'umanità quindi qual è il modo in cui si può cercare di far capire a un ragazzo o un bambino che non c'è da temere grazie allora quello che innanzitutto quello che facciamo noi è non obbligare le persone a fare robotica quello che facciamo noi è utilizzare la robotica come strumento infatti noi non ci consideriamo un'azienda che fa formazione tecnica anzi tutt'altro ci consideriamo un'azienda che fa formazione a 360 gradi quindi la prima cosa è non dimenticarsi mai delle soft skills quindi quelle sono fondamentali perché l'umano in questo mondo iper tecnologico rimane sempre comunque al centro questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare i scenari apocalittici obiettivamente chi ha un po' di cultura scientifica lo sa chi ha un po' studiato l'informatica anche in minimi termini lo sa rimangono scenari apocalittici ok non ci dobbiamo far spaventare dai mass media dai telegiornali in generale comunque dall'informazione che ci porta su un binario completamente diverso anche perché poi ci sono i dati signori che ci raccontano tutta un'altra storia che è vero che verranno cancellati milioni di posti di lavoro ma quante milionate ne verranno creati e poi la qualità dei posti di lavoro che verranno creati perché non si parla mai di quello cioè si smetterà di far fare al magazziniere il magazziniere e gli si farà fare il controllo del magazzino cioè stiamo cambiando il paradigma del lavoro su questo ci dobbiamo sempre ragionare e concentrarci altre domande ragazzi niente sì io sono Andrea è una domanda per Valeria e tu hai raccontato che già 11 anni hai fatto tutte queste cose e immagino che dietro di te ci fossero dei genitori che ti hanno supportato e puoi raccontarci qualcosa di più su questo perché tante volte sì ci sono bambini che hanno delle potenzialità però se dietro non c'è qualcuno che li supporta non si va da nessuna parte grazie allora i miei genitori fanno tutt'altro si occupano di impianti frigoriferi industriali quindi un mondo completamente diverso e però quello che hanno fatto non mi hanno mai ostacolato mi hanno sempre supportato in tutte le idee un po' pazze che avevo quando la prima volta avevo voglia di andare in un coder dojo o avevo voglia di andare a un altro evento in cui volevo imparare qualcosa in un'altra parte d'Italia ed Europa anche se loro non capiscono molto quello che faccio mi hanno sempre aiutato e portato in tutti gli eventi fino a quando poi la nostra azienda man mano è diventata sostenibile c'è una domanda bene volevo chiederti visto che i robot stanno sempre più assomigliando a noi quando ci accompagneranno a portare la spesa a casa volevo chiederti se è meglio avere dei robot che assomigliano all'essere umano oppure dei robot che sono totalmente fuori dall'esempio di essere umano allora questa è una domanda che sfonda il campo della psicologia della filosofia infatti non so se sapete adesso tutte le grandi aziende sia software house ma anche hardware house che si buttano nel mondo della robotica stanno sempre più affiancando i programmatori a dei filosofi psicologi sociologi perché sta sempre più diventando un problema veramente sociologico perché il fatto che soprattutto in Giappone per esempio il fatto che sviluppino un sacco di robot con sembianze veramente umane sta un attimo mischiando un po' le carte perché prima il robot era semplicemente pensato come il braccio meccanico che lavorava nell'industria adesso sta veramente entrando nella vita di tutti i giorni e non solo sta iniziando anche ad assomigliarci il confine è sottile io secondo me ci sono qua per il momento dei pareri personali che si possono dare il mio parere personale un robot con una faccia umanoide non mi spaventa e non mi preoccupa però qui io non sono un esperto di sociologia psicologia eccetera per poter dire è giusto è sbagliato io dal mio parere personale dico non ci vedo un problema se mi aiuta a fare quello che devo fare lo fa bene perché no? un robot come iCub è anche carino eh sì molto figo però questo è il mio parere altre domande ragazzi? ciao sono Marco e prima vorrei fare una domanda a Valeria come sei venuta a conoscenza dei Coder Dojo perché io l'ho saputo ora allora io ho scoperto i Coder Dojo online perché all'inizio delle medie mi piaceva chimica e informatica chimica c'erano un sacco di corsi anche per bambini in Alessandria e invece per quanto riguarda l'informatica non c'era assolutamente niente però io ho sempre avuto libero accesso a internet senza nessun problema e così cominciando a cercare in tutti i modi corsi di informatica per bambini e per ragazzi ho scoperto il Coder Dojo e poi mi ci sono fatta portare l'ha trovato per sfinimento anche Google si è sfinito ce l'abbia detto vabbè tieni il Coder Dojo la persistenza sì 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 e ancora una domanda a te il metodo scientifico che ti sei imposto quando sei tornato in che cosa consisteva è molto banale in realtà però era smettere di aver paura perché io avevo veramente paura di provare le cose cioè quello che mi mancava era proprio mettermi lì e provarci cioè io in qualche modo mi immaginavo come se dall'alto mi dovesse cadere non so la goccia magica che mi avrebbe aperto le porte dell'informatica della programmazione mi avrebbe fatto scrivere da lì alla fine dei tempi tutti i codici perfetti e giusti questa è la mia idea malatissima in realtà poi mi sono detto basta cioè mi sono reso conto che bisognava provarci bisognava provarci davvero bisognava spaccarci la testa sopra ho fatto semplicemente quello poi il resto è venuto da senso va bene grazie prego c'è un'altra domanda qui io volevo fare una domanda a Valeria dato che immagino che l'avventura abbia portato a numerosi impegni ti sei diplomata e hai intenzione di intraprendere l'università oppure oppure no allora io ho fatto ho frequentato la scuola normalmente fino alla quarta superiore e ho sempre fatto una scuola pubblica e ho fatto informatica periodo informatico ma purtroppo ho incontrato una scuola che non capiva quello che io facevo al di fuori della scuola e anzi mi ha sempre ostacolato perché secondo la scuola anche se io riuscivo ad avere media dell'otto del nove senza problemi si doveva fare solo scuola e non si poteva fare nient'altro e a me questa cosa non piaceva per niente e alla fine ho deciso perché non mi avrebbero ammesso alla maturità se continuavo a fare entrambe le cose di fare la quinta da privatista e mi sono diplomata quest'anno con 90 e poi adesso da poco mi sono iscritta a ingegneria informatica qua al Politecnico di Milano io ho una domanda sui corsi per bambini come sono organizzati e se li fate nel weekend o durante la settimana abbiamo corsi di qualsiasi tipo e adesso durante l'estate abbiamo soltanto i summer camp che finiscono domani e invece poi durante l'anno scolastico abbiamo diverse attività abbiamo sia corsi durante la settimana che quindi i ragazzi possono venire con cadenza settimanale quindi costruire anche robot più complessi con più incontri oppure anche per chi viene da lontano abbiamo degli incontri nel weekend in cui in tre ore si costruisce un robot per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni altre domande? Ciao mi chiamo Leonardo avete parlato della scuola e della lezione piatta quindi insegnante che spiega e all'alunno che sta seduto ad ascoltare spesso si addormenta come secondo voi dovrebbe cambiare la scuola e come può essere rivoluzionata? Se dovessi twittarla direi dovrebbe essere come off passion che è un po' uno spot però è vero nel senso noi crediamo in quello che facciamo perché adesso qui parlo seriamente perché il valore di quello che facciamo lo vediamo vediamo il risultato vediamo la maturazione e il risultato immediato di fare un laboratorio al posto di una lezione e lo si può fare non solo con le materie scientifiche ma si può portare come dicevo prima la robotica come mezzo per sviluppare altro per raccontare una storia per spiegare qualcosa in italiano o in inglese cioè si può fare l'approccio laboratoriale funziona funziona un sacco perché prima ci metto le mani e poi capisco ed è più semplice una volta che vedo funzionare la leva capire dove è il fulcro sembra assurdo ma siamo stati abituati a un approccio sempre contrario faccio la teoria poi magari vedo poi magari vedo la pratica se io vedo la pratica ho una risposta nel cervello immediata se poi ci abbini ancora di più il gioco proprio per esempio con i più piccoli è veramente assurda la capacità che hanno di imparare dei concetti complicati senza quasi nemmeno rendersene conto e poi lo sanno quando glielo vai a spiegare l'hanno capito perché lo vedono ok se c'è altre domande sì sono Umberto qua ciao scusami ciao io facevo una domanda a Francesco tu hai parlato precedentemente del metodo scientifico quindi di come hai superato lo scoglio mentalmente ma emotivamente cioè c'è stata un'evoluzione c'è qualcosa che ti ha cambiato è successo così man mano piano piano allora no quel allora quel fallimento all'università per me è stato un trauma vero e proprio è sbagliato come termine forse da usare ma è stato veramente quella roba lì perché è veramente stato un punto di non ritorno io ho detto da quel momento lì avevo capito che in quel momento le cose sarebbero dovute cambiare quindi è stato sì graduale però il punto in cui iniziata me ne sono reso mi sono reso conto che ok da lì non ci torno più deve succedere qualcos'altro e poi il resto è stata come dicevo prima è stata fatica perché lo ammetto non è stato semplice è un po' come fare il morbillo a 20 anni invece che a 4 a 4 non te ne rende conto a 20 ti pigli le mazzate è stato uguale per me io l'ho vissuta con difficoltà perché ho proprio dovuto cambiare un'impostazione mentale che si era scalfita e scolpita nella mia testa da quando avevo 5 anni 6 anni perché io ho sempre vissuto l'education nel modo un po' come l'ha vissuto Valeria noioso e teorico quindi è stato difficile però poi ho scoperto che si può fare il messaggio positivo che voglio lanciare io sempre è che sono una persona normale ma ce l'ho fatta e si può fare lo possono fare tutti e tutti possono cambiare ok ma ci vuole però c'è fatica cioè non è uno spot anche questo ci vuole fatica ci vuole bisogna davvero mettersi sotto e fare qualcosa di diverso rispetto a prima spero di aver risposto alla domanda ok grazie prego ragazzi altre domande ciao sono Paolo e per caso fate anche attività di formazione all'interno delle scuole il discorso scuole è un po' un tasto dolente nel senso che noi vorremmo tanto vorremmo tanto ogni tanto ci capita riusciamo a farlo ma parlo molto schiettamente qui il problema delle scuole sono due in realtà è uno solo che molto spesso non hanno i soldi e quando li hanno perché obiettivamente noi siamo un'azienda ok quindi dobbiamo essere sostenibili il nostro business è sostenibile quindi quando o non hanno i soldi o quando li hanno li spendono malissimo noi vediamo veramente delle situazioni non sto a fare degli esempi perché ne potrei portare un miliardo in cui ci dicono ok non abbiamo budget per questa cosa e vedi veramente una quantità di denari buttati via in strumenti perché poi è il discorso un po' che si ricollega alla decima regola nostra lo strumento va usato non è che puoi comprare 15 iPad e hai risolto il problema della tecnologizzazione della tua scuola non la stai innovando non la stai innovando cioè se avessi comprato 15 Zapp e risparmiavi ed era uguale cioè la stessa roba bisogna avere le competenze non gli strumenti è questo un po' quindi facciamo fatica a fare attività nelle scuole obiettivamente riusciamo c'è qualche scuola che ci dà la possibilità di farlo ma l'istituzione scolastica è un po' contro per paura ci sono una serie di motivi però facciamo un po' fatica almeno quella pubblica riusciamo a lavorare meglio con le scuole private se non ci sono altre domande vorrei farne una io vai il problema della scuola forse è anche tanto gli insegnanti l'approccio che gli insegnanti hanno con i ragazzi anch'io ho fatto liceo scientifico ho notato che appunto applicazione pari quasi a zero avevamo tanti alambicchi tante cose che non abbiamo mai visto quasi secondo voi come è possibile far cambiare paradigma agli insegnanti che hanno una certa età che sono nel sistema scuola da anni che pensano solo magari ad andare in pensione c'è un modo secondo voi per incentivarli a fare di più o a cercare di essere più innovativi devono sicuramente deve partire da loro perché con mille corsi non si può cambiare il loro modo di pensare ma devono essere loro che vedono tutta questa tecnologia qualcuno c'è che ci riesce e abbiano voglia di sperimentare provare cambiare e soprattutto che gli basta anche poca sperimentazione nel modo giusto e riescono a capire che è qualcosa che riesce a rendere sicuramente molto più interessante le loro lezioni le loro attività di qualsiasi tipo e che non bisogna più fare lezioni noiose in cui si annoia sia l'insegnante che i ragazzi ma che le stesse attività possono essere fatti in maniera divertente e nei nostri corsi con gli insegnanti ci siamo scontrati un po' la maggior parte delle volte con insegnanti che non gliene fregava niente nel senso era un corso di aggiornamento lo faccio e basta e potete parlargli di qualsiasi cosa per loro era uguale e invece per fortuna abbiamo anche trovato scuole che erano contente con insegnanti davvero motivati e che dopo poche settimane avevano già portato in classe le nostre attività di robotica coding perché noi quello che cerchiamo di insegnare è che non è soltanto una cosa per chi insegna scienze matematica informatica ma è una cosa che può essere applicata a qualsiasi materie in modo trasversale perché la maggior parte si basa su soft skill grazie mille ragazzi se non ci sono domande fate un grandissimo applauso grazie grazie mille forse c'era un'altra domanda che non ho visto io avrei una domanda per Valeria allora io ho quasi 17 anni studio meccanica mecatronica all'istituto tecnico e io faccio tanto laboratorio solo che io ho il problema contrario con le materie tipo italiano storia non mi vado bene però sono le materie che mi interessano meno quindi impiego anche tanto tempo per studiare e approfondire anche le materie tecniche tu come hai fatto a cioè a tenere sia tempo per studiare e tempo per fare i tuoi progetti allora per prima cosa sei stata coraggiosissima a scegliere un indirizzo meccanica perché non ce ne sono tante penso di ragazze che scelgono meccanica sei l'unica e io a me non sono mai piaciute troppo materie come italiano storia però per fortuna ho sempre avuto sono sempre riuscita a studiare molto velocemente queste materie che sono solo memoria pura e basta e quindi mi bastava che roba brutta che ha detto io non sono d'accordo con questa roba vabbè finisci fuori scusate in poco tempo riesco a studiarle senza problemi quindi anche alla sera così per poi dedicare tutto il resto del tempo a quello che mi piace quindi è soltanto secondo me forza di volontà e voglia di mettersi anche se non ti interessa per lo fai perché poi ho più tempo per il resto ringraziamo ancora un altro applauso grazie mille grazie grazie ragazzi buona giornata no vedo che ve ne andate no ora c'è un altro speaker grazie ragazzi grazie mille c'è un altro speaker che sta arrivando chi se ne va perde assolutamente il posto non scherzo però vi perdete uno speaker straordinario che sta per arrivare e quindi è un'occasione per tutti quelli che vogliono fare start up è un'occasione Grazie a tutti.